Soprintendenza dall'Aquila a Chieti, ormai sembra tutto deciso. Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? Noi critichiamo il consigliere Pietrucci che fa di ogni cosa una lotta campanilistica. Non è una questione di campanile, è una questione di morfologia territoriale. Crediamo che Chieti possa essere una buona opportunità per tutto l'Abruzzo. Aggiungiamo che il consigliere Pietrucci fa parte del partito che al governo della nazione, al governo della regione pensasse ad una programmazione della cultura e a una programmazione delle belle arti nella nostra regione e non soltanto a dove dislocare una sede. E a chi dice che pian piano l'Aquila viene svuotata di alcuni poteri, anche politici, e lei cosa risponde? Ma io non credo sia così. L'Aquila è attenzionata da tutti quanti noi, tutti quanti noi abbiamo a cuore l'Aquila e la ripartenza finalmente dell'Aquila.